Musica Bentornati amici del Mediano Sport per la nostra rubrica delle interviste esclusive Dopo tante interviste dedicate allo sport andiamo al teatro Abbiamo con noi ospite Enzo Catapano Ciao Enzo Salve, ciao Roberto Salve a tutti che ci state vedendo Sono un po' emozionato No tranquillo Siamo nella relazione del Mediano Sport Come se fosse il salotino Come vedete è una grande intervista questa Ci divertiremo sicuramente, seguiteci Partiamo, ho detto teatro Però Enzo Catapano, attore, cabarettista, anche cantante Sì, sì, anche cantante Cioè a me non mi manca proprio niente Non mi manca proprio niente Nel senso che se tu per esempio vuoi un attore, io faccio l'attore Vuoi un cabarettista, io faccio il cabarettista Un jolly Questo non lo conosco Cioè per esempio questo non ce l'ho in tasca Un jolly non ce l'ho Però posso provvedere a questa roba Quindi io mi impegno Fa pure la faccia del jolly, visto che sei attore Fammi il jolly No, non ce la faccio Perché sai cos'è? Cioè vicino a te Tornetti, io lo tocco Pure voi Cioè siete un po' invidiosi Voi loro da casa perché non riescono a toccare Roberto Sica Però è un evento straordinario Cioè ogni quattro anni per esempio Fanno i mondiali Ogni vent'anni puoi toccare a Roberto Sica Quindi così mi fa piacere Fammi tutte le domande che vuoi Ok, il jolly no perché insomma è andato Ci dobbiamo divertire o il jolly no? Sì, io già mi sto divertendo E c'è anche io mi sto divertendo Penso che anche chi ci sta seguendo da casa ci sta divertendo Facciamo un passo indietro Passiamo un passo indietro Ma mi spostano la serie? No, no, non c'è bisogno Enzo Catavallo Cioè intanto richiamo perché dall'altra parte della telecamera si stanno facendo le risate Posso immaginare, posso immaginare Chi è Enzo Catavallo? Come nasce questa tua vena Non so neanche più come definirla Questa vena artistica, questa vena così goleardica E' proprio tu di carattere Ma come parli bene Mi piace come parli tu E come nasce? Enzo Catavallo nasce artisticamente Secondo me da piccolino Aveva sempre questa cosa, sai Che voleva fare l'attore Si inventava cose strane Anche quando andavo a scuola Specialmente la mattina Il tuo palco Dalle otto e mezza io recitavo Poi mi sentivo male, la febbre Non si sapeva E mia mamma ha scoperto Mia mamma da regista Mia mamma fa la regista Ha detto no, ora devi andare a scuola Infatti io avevo la febbre Veramente Sono uscito alle cinque Da solo, proprio nella scuola Perché disse no, no, no Fatelo rimanere nella scuola E non deve uscire No niente Poi ho iniziato questa cosa Più forte di me Dentro di me Ho fatto tante cose Belle cose Simpatiche cose Spero di farne altre In futuro Fammi la domanda Ho capito Fammi la domanda La prima cosa bella La prima cosa bella Che ho fatto in televisione È stata Dominica Inn Dominica Inn Dici ma Dominica Inn Perché io sono Tu mi vedi così Ma io sono Non ti affezionare Rosa Perché sono la nipotina Ufficiale di Paolo Villaggio Cioè faceva la nipotina Vincenzina Vincenzina La figlia di Di Mariangela Di Mariangela Quella brutta Cioè proprio brutta brutta La tua mamma Non ti prende le cose No 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 Ma veramente Ma guarda Io ti voglio raccontare Un piccolo episodio Che io stavamo A Sanremo Sanremo Bellissimo Sai Una passerella Dove tutti quanti Porco dell'Aristo Prima del palco Ah prima Quando entrano Sfilata di cantanti Le cose Ero vestito normale Sai come mi vedi così Bella Un signore Mi sa Mi sa che Ha detto Oh guarda La nipotina Perché hanno fatto Anche il fan club Però Hanno fatto anche Il fan club Della nipotina Allora c'era C'era questo fan club E io mi sono spaventato Ho detto Ma veramente Faccio Cioè Vabbè Bip Cioè mettiamo Il bip Perché proprio per dire Se non sono pure i bambini Ci seguono Perché giustamente Il mediano Però ripeto E poi la cosa bella Che mi hai fatto ricordare Mi hai fatto emozionare Io Ho sempre amato L'Ariston Cioè ma non Insomma Ho amato l'Ariston Guardando un mito Il palco dell'Ariston Di Sanremo Io l'unica Cioè tutto quanto Sai Ognuno Tiene un Ariston A casa sua Cioè non voglio fare pubblicità Cioè È pubblicità occulta Però Cioè ognuno di noi Mi ha fatto Però è bello Cioè che io Ho Una volta Cioè ho sempre visto Sanremo da casa Cioè loro mi vedevano a me Che stavo sul palco di Sanremo Cioè un palco enorme È bellissimo Il video per questa cosa Lo sa Mamma mia Mamma mia Io Una cosa bellissima Anzi ma siccome che tu sei stato bravo A farmi rivivere questa cosa Io vado a casa Prendo le scarpe E me le bacio Cioè poi Cioè ancora le scarpe di quando Facciamo Le scarpe di Vincenzi Poi io c'ho L'appi Quello è un abito Quello è un abito Saperlo Te lo facevamo portare Magari No vabbè Ti stai affezionando troppo Ti stai esagerando Ti stai affezionando troppo Questa è una cosa tua Certo No ma poi sai cos'è Questa cosa mi ha portato avanti Abbiamo fatto 39 puntate Con Mara Veniera Che è straordinaria Una donna bella Diciamo una donna veramente particolare Come dite voi Non è il caso Lo so che tu giustamente Al posto mio Vorresti O la Mara Veniera Oppure la Cioè qualche subretto Per oggi ti devi condannare di me Vabbè Cioè oggi Non mi condannare di me Vuoi essere nella lista Però la cosa bella Che poi ho fatto Tante cose Ho fatto sabato italiano Un'altra trasmissione Con Pippo Baudo Il grande Il grande Pippo Baudo Il Prendatore per eccellenza Pensa che il mio provino Taccera a contare su provino Che è stato bellissimo Il provino Erano nove ore Che io aspettavo Così Cioè proprio così Aspettavo E dissi vicino al mio agente Ognuno è un agente Non l'agente per esempio L'agente Una persona Non ho mai capito Quante persone sono Insieme Però è una sola persona E disse vicino a me No sai Dobbiamo rimanere qua Dobbiamo rimanere qua Ma secondo te Hanno preso già le persone Ma no 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 Entri Alla fine Io mi sono inventato Un altro personaggio Proprio Così A braccio Proprio così Sono entrato E facevo questo Della pulizia All'improvviso Ho pulito tutti gli autori Alla fine Ho pulito le scarpe A Pippo Baudo Ha detto E per chi mi pulisci Le scarpe A Pippo Baudo Dissi vicino a me Che ha detto Mamma Se vuoi entrare Nel mondo Dello spettacolo E finisci A Pippo Baudo E lui rise Cioè si mise a ridere Come lui Il grande Baudo Che tutti quanti L'hanno in mità Spero di farlo purì Però è straordinario Un maestro Un maestro Della Della televisione Posso dire che lui Secondo me È vero Lui ha inventato La televisione Sicuramente Pippo Baudo Per eccellenza La televisione È la televisione Infatti Quando vuoi cambiare canale Puglia Pippo Baudo E cambia canale Direttamente Su se stesso Quindi così E fai Niente Poi ho fatto Nelle cose belle Mi sono fatto Hai detto già Due cose bellissime Cioè lavorare con Pippo Baudo E il parco dell'Ariston E Mara Veniero E il parco dell'Ariston Insomma Come Bella Bellissima Esperienze televisive Esperienze televisive Queste qua Sono state le più Importanti Poi Essendo un attore Oltre teatrale Ma anche cinematografico Ho fatto Un polso al sole Io facevo Questo ispettore Di polizia Un polso al sole Cioè C'è questo giovane Che voleva arrestare tutti Cioè All'improvviso Cioè Vedeva Roberto Siga Arrestiamo a Roberto Siga Non ha fatto niente Arrestiamo Non c'è problema E tutto in E solo Mi sono divertito 46 repliche Un polso al sole Estate Infatti L'hanno fatto Quando nessuno Sta facendo Nessuno lo vedeva Un programma seguitissimo Comunque Sicuramente Come no Come no Sono stato a Brescia Ultimamente E vedono tanto Un polso al sole Cioè Io ho detto Voi lo vedete Un polso al sole No io non lo vedo Ma l'ho fatto Nel senso Tra l'altro Mi ricordo Quanti anni Di un polso al sole Eh sì Sono circa 20 Questo è già da poco Il compleanno Sì Secondo me All'età tua Cioè Un polso al sole Cioè Sono 86 anni 21 Gli autori Danno 18 anni Mi suggeriscono Dalla regina 18 anni Ci dobbiamo fare Legare Maggiorenne È diventato Maggiorenne È giunta la sua maturità Giusto Non si parte Neanche più Per il servizio Di leva Quindi puoi immaginare E Va fammi le domande E diceva Molte alla televisione Posso darti un bacio Posso darti un bacio Ti vorrei dare un bacio Perché Lo so Lo so Perché me l'hanno detto La scorsa volta La scorsa volta C'era Una donna C'era Stefania Aspisto La scrittrice Lo so Lo so Lo so Lo so L'ho visto L'ho visto Tu bello Lì Oggi ti sei messo Una giacca Diceva Vabbè Tante vienes Anzi Potevi venire Con le ciabatte O con il pantaloncino E poi devi fare La tua grassa figura Non per l'amore Cioè guarda qua Io sono tutto Oggi è una intervista Sui Genesis Bello Sui Genesis Bellissimo Io ascoltavo Io l'ho ascoltato Sono bellissimo Che poi oggi Vogliono sentire Tutti questi cantanti Ma questi cantanti La vera musica Bellissima La vera musica E poi Una cosa importante In teatro Sai con chi ho lavorato E sono contento Anzi Saluto il mio grande maestro Enzo Gragnaniello C'è stata una tournée Bellissima Stupenda Dal titolo L'erba cattiva Non muore mai Tratto da un suo album Di Enzo Gragnanie E io facevo questo tipo Diciamo Il figlio della signora Di sopra Che voleva Forza fare qualcosa Nel suo spettacolo Sai Queste cose Un po' veritieri Questo dove Siamo stati Al teatro Vittoria A Roma Per tre settimane Poi siamo stati Al teatro Bellini Di Napoli Abbiamo girato un po' In lungo e largo Il meridione Ed è stata una grande Questa la porto nel cuore Perché Ed è un'emozione Strabiliante Una delle tante esperienze Del teatro Però hai parlato di Enzo Gragnanie Anche di musica Tu sei anche un po' cantante Io sono anche un po' cantante Però diciamo Ma tu No Adesso Non fare il fiorello Non è che mi facciamo il karaoke Mi ha incuriosito questa cosa Leggere che sei anche cantante Sono anche cantante Faccio un po' Faccio un po' Faccio un po' di cose Ho fatto Canto Canto Faccio un po' Di imitazioni Ho fatto dei baglioni Baglioni Dice Quella sua maglietta Fina Cioè bello Successivo Successivo Bravissimo Bravo A me piace Non lo so a te Però tu Tu mi devi vedere Guarda Tu appena io canti Tu te ne vai Io già lo so Allora parliamo del teatro Lasciamo stare Visto Dobbiamo stare qui un altro po' Il teatro Il teatro Ma quanto tempo possiamo stare? Un sacco Mezz'ora? Una mezz'oretta Tre quarti d'ora Ci dobbiamo prolungare Ma in realtà Se andiamo avanti così Dobbiamo fare vari appuntamenti Con Enzo Catapar Possiamo organizzare proprio una Cioè Ogni settimana Ti aspettiamo qui al mediano Se la vogliamo organizzare Subito L'altra collina Diciamoci la verità Diciamo anche i nostri amici Che ci stanno seguendo Cioè Se è stato 55 minuti Cioè Se è stato 55 minuti Che effettivamente Anche il regista Dice Mamma mia Ma a me Giustamente Essendo un uomo brutto Tra l'altro Giustamente Mi vuoi arronzare Va bene Giustamente Dimmi tutto Mi hai lanciato un'idea 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 Mi hai lanciato un'idea Visto che Questa intervista dura tanto tempo Secondo me ce ne vogliono tantissimo Lanciamo un sondaggio Ai nostri amici Che ci seguono da casa Volete Enzo Catapar Ogni settimana Qui al mediano Se voi dite Di sì Noi Ogni settimana Enzo Catapar Vieni Vieni Io ti posso dire Lanciare questo sondaggio Lanciamo questa cosa L'importante L'ultima puntata Tu mi dai un bacio in bocca Cioè Facciamo questa cosa Lanciamo questo Anche perché voi Giustamente No 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 Mi sono fissato Perché No aspetta Io sono etero A proposito Sono etero Però tu Cioè Hai una cosa particolare Non lo so È chimica È chimica È chimica C'è un fatto di reazione Chimica Dall'azione Scaturisce una Reazione Capite Diciamo così Dimmi tu Fammi le domande Fammi le domande No fammi le domande No no adesso Tu fammi le domande Il teatro Adesso Il teatro Il teatro Il teatro è bello Il teatro è bello Il teatro è anche un po' casa mia Attualmente sto girando Uno spettacolo Si chiama Mi faccio ancora da solo Cioè Non pensare che No perché tra l'altro Tra l'altro Sai Abbiamo anche la locandina Certamente Facciamola vedere Guardate qua Questa è la locandina Guardate qua Mi faccio ancora da solo Cioè io Così Anzi perché Tra l'altro Tu puoi pensare Che non è così Quello che pensi Non penso In realtà è uno spettacolo Di due ore Con due attori Bravissimi Vincenzo Dottorini Che mi affianca Da sempre E succede Tanti colpi di scena Tantissimi colpi di scena La gente ride Ride Sorride E lascio il messaggio Mi faccio ancora da solo Quello di non arrendersi mai Nella vita È chiaro Se vuoi diventare Come Roberto Sica Tu ci devi credere Bisogna crederci E anche tu Puoi una volta Intervistare L'attrice Prima Anche tu puoi intervistare La scrittrice La scrittrice Quindi è importante Questa cosa Quindi è il messaggio Che vuole dare Di non arrendersi mai Di credere E di essere veramente Uno Cioè Di perseverare Di perseverare Un bel messaggio Un bel messaggio Un bel messaggio Anche perché Tra l'altro oggi È un messaggio reale Oggi la crisi È diventata una patologia Cioè la gente È impressionante Appena ti tocca Ti tengo la crisi Mamma mia Non l'ho toccato Perché ti stai una crisi Quindi a Eboli A Eboli Faccio una battura C'è l'Evola C'è Mentre qua Esiste proprio Questa Questa crisi Evola A Eboli Evola A Eboli Speriamo che Questa cosa Effettivamente Diamo un messaggio Ancora più serio Speriamo che Questa 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 malattia Questa cosa Non viene In Italia Perché noi già stiamo Vedete anche Roberto Si non mi sta rovinato Per un attimo Seri Riguardo a questa cosa Del teatro Il teatro Il fatto Che il messaggio Di dare un messaggio Cioè il bello del teatro È anche quello Di dare Il messaggio Che poi ho capito Essere Essere veramente Testardo Se io voglio diventare Scherzo a parte Un attore Un avvocato Un professionista Cioè Oggi nessuno ti dà una mano Oggi nessuno Ti garantisce Un posto Sicuro E allora Se ti alzi la mattina E con certa Voglia E testardaggine Riesci a realizzare I propri sogni Anche se sono piccolini Anche se sono piccolini Però l'importante Si realizza Quindi Lo sai In un periodo come questo Un messaggio così Positivo Quindi per tutti quelli Che hanno bisogno Di un messaggio positivo Andate al teatro A vedere Mi faccio ancora da solo Mi faccio ancora da solo Che Io mi diverto Mi diverto tantissimo Perché poi tra l'altro C'è l'interattività Tu capisci di interattività? Certo No c'è bravo Non è bello Cioè Quando capisci L'interattività L'interattività col pubblico Il pubblico diventa Un pubblico attivo Non è un pubblico passivo Partecipa proprio allo spettacolo Partecipa proprio Cioè Oltre a ricevere un messaggio A divertirsi Si diventa protagonisti Della tua Brava Si diventa protagonisti Perché automaticamente Ma quante ne siete? Tre? No No Siamo 500 Che immagino Una platea di 500 Tutti i 500 Diventano protagonisti Di questo spettacolo Ed è emozionante Dobbiamo dare un appuntamento L'appuntamento è il 18 Noi facciamo delle mattine Stiamo girando per dei teatri Noi giriamo Noi bussiamo vicino ai teatri Possiamo entrare Allora ci vanno a entrare Il 18 al teatro Cinema Plaza Al Vomero Il 26 al San Nazaro Quindi Vare Io ti informo Che qualcuno Qualcuno Se vuole venire A vedere Che sono delle mattine Delle scolastiche Per le superiori Però Non è detto Che Roberto Non vuoi entrare Ci l'ha detto Cioè Roberto Puoi entrare Anche se c'è una certa età Nel senso che Quindi Voi lo vedete così Quindi E no E sì Ho fatto tante cose Ho scritto Perché tra l'altro io scrivo Questa è una commedia scritta da me C'è proprio Messa lì Studiata Perché a me piace anche scrivere Oltre ai testi teatrali Scrivo testi canzoni Mi piace Sai Mettermi in discussione A volte mi appiccino Stessi Perché nascono delle discussioni E non devi fare questo E non devi fare quella E comunque Come nasce uno spettacolo così Tu ti siedi Lì a scrivere Nasce Nasce All'improvviso Nasce all'improvviso Perché Ti metti lì Con Il tuo miglior amico Un autore Il suo miglior amico È la penna È la penna Cioè tu stai lì Con la penna E dici Che vogliamo fare Che vogliamo scrivere Cioè qual è il tuo È un grande sogno Da quel foglio bianco Tu butti tante cose E alla fine Realizzi qualcosa Di tuo personale Qualcosa che Veramente tu ci tieni A cuore Ed è la bella cosa C'è una realizzazione Fondamentale Per cosa di realizzazione Io so che tu hai Un sogno Un desiderio particolare No Di vedere un sacco Eh Quale Quale dici Eh vabbè Vabbè Ma mi stai mettendo In difficoltà Lo sai Io mi riferivo a uno Che mi hai detto prima Ah Tu sei innanzitutto Un tifoso del Napoli Io sono un tifoso del Napoli Allora Io queste cose È un desiderio mio È un desiderio proprio grosso Cioè tanta gente Vogliono fare Vogliono fare queste cose Io voglio fare una cosa Cioè andare A cena A lume di candela Lume di candela proprio Che ho detto A lume di candela Cioè gli porti pure il regalo Con chi? Eh 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 Vuoi sapere? Con Iguain Gonzalo Iguain Che bello Gonzalo Iguain Non ti preoccupare Iguain Tu hai cose Sono di tenere E pipita Posso anche io Quella sera Diciamo Sei mio ospite Non c'è problema Sei mio ospite Puoi venire quando vuoi Però Io e lui Perché io so Che lui Ha bisogno di stare Cioè capito Sta sempre solo lui Sta sempre Veramente Sta sempre solo lui Un po' come te Capito Cioè sta sempre come lui Ha questo fatto che Nessuno lo pensa Non vuole Cioè lui giustamente Deve giocare Si deve concentrare Gioca così Tu tira Tira sempre Tra l'altro domenica Ha fatto Sabato Ha fatto un gol Spettacolare Sono stato allo stadio Sono stato anche allo stadio E veramente mi sono divertito Anzi Ti dico di più Mi sono emozionato Mi sono emozionato Perché non ho visto Cioè ieri ho visto la Playstation Cioè Sabato veramente Il Napoli ha regalato Grande emozione Benissimo E allora il mio desiderio È andare a cena Con Gonzalo Iguain Al lume di candela Se può fare Io Non so se ci ascolta Gonzalo Iguain Gonzalo Qua sta Senso che ha da pano D'è il suo desiderio Io ho questo desiderio enorme Cioè è come Il tovaglame Sì è sopra il tovaglame La maglia sua Cioè Sulla sua maglia Sulla sua maglia Proprio Il nove Il nove Questo candelabro Con questo Questo cero No questo cero no Perché poi sono passati Ci molto Però Cioè E io e lui Cioè questa cosa E mi ha parlato Io gli devo far conoscere Una ragazza Perché Capito Io ci voglio parlare E dice Sentite Tu ridici Vuoi conoscere Questa ragazza Perché sta sempre Cioè ha già capito I suoi gusti Io gli porto il catalogo Capito Porto il catalogo Per questo fatto Per questo fatto che Secondo te Lui sta da solo Sì sta sempre Sul list Lo vedi Vuoi trovare una compagnia Eh voglio trovare Una compagnia Vabbè ma gli altri Non ci hanno pensato Sì ci hanno pensato Però secondo me Con me Con me Comenze la lavanda Secondo me Ci riesce Vabbè Ci riesce Ma questo catalogo È solo per Iguain Solo poi dopo C'è una scena Nella relazione Vabbè Da bionde Rosse Brune Bellissime donne Eccezionali Ma non che È un fatto di conoscenza Di parlare Perché lui parla poco Tra l'altro La lingua italiana Lui capisce Quando dice Gonzalo Iguais Cioè lui sai Che si chiama così Infatti si sorride Poi gli dice Un'altra cosa Non capisce niente Però è bello Speriamo di vederlo Protagonista Domani sera Per tutto il campionato Tutto il campionato Infatti Bravo Io domani Non posso andare là Non posso San Napoli San Napoli Non ci posso andare No perché sto facendo Le prove dello spettacolo Quindi sai La sera finiamo tardi Tutto il giorno Quindi poi Però Ci saranno altre occasioni Forza Napoli sempre Forza Gonzalo Il mediano No forza il mediano Il mediano Bello Forza Ma mi sto divertendo Mi sto divertendo Abbiamo Abbiamo ancora un po' di tempo Abbiamo altri sette minuti Cioè in sette minuti Raccontami la tua vita La mia vita Perché Tu mi stai intervistando a me Perché oggi C'è la cosa Magari Se i nostri amici da casa Partecipano a questo sondaggio Noi ti abbiamo ogni volta qua Quindi figurati un po' La voglia di raccontare Io sono contento E contento Se i telespettatori Vogliono la mia presenza Sono contento Anzi Sono contento Non ho avuto un posto per Capodanno Per andare a mangiare da loro Quindi se in casa Posso vedere Dimmi Sornando al teatro Tante esperienze importanti Belle Divertenti E poi Appartenendo dalla scuola di teatro Del 98 L'accadema di teatro Poi ho fatto Sono stato con il maestro Gigi Proietti Proietti è stato È stato un grande Mi ha insegnato Mi ha insegnato Mi ha insegnato A conoscere me stesso Capito Io ci sono Capito Perché a volte Tu non mi vedi così Ma io sono guaiato Dovevamo intervizzare lui Per chiedere Chi è Enzo Gattapallo Ma non lo sa neanche lui Alla fine no Questo è il fatto Questo è un enigma Che noi abbiamo lasciato Questa cosa E però ti dico una cosa È il teatro Il teatro per me È sacro Il teatro è vita Infatti Sto facendo un esperimento Nelle scuole Che io Voglio rinnovare Lo dico Se c'è qualche preside C'è qualche preside Che ci sta guardando Dico Signori presidi Una cosa plurale Signori presidi È fondamentale Che gli allievi Gli studenti Entrano Si appassionano Al mondo del teatro Perché Noi abbiamo Una grande Secondo me Importanza Quello del teatro Il teatro A proposito Quest'anno Sono 30 anni Di Edoardo 30 anni Ricordiamolo Perché Edoardo È chiaro Ma non lo dobbiamo ricordare Soltanto oggi Noi lo dobbiamo ricordare Anche Il 32esimo Ah bravo Capito Un grande protagonista Se tu non te lo ricordi Io ti chiamo io Ti ricordo Ti ricordo Perché poi tutti preoccupi È fondamentale Perché Edoardo Diceva una cosa Vera Nella vita Nella vita Si recita Mentre sul palcoscenico Devi essere te stesso Quindi però Dicendo Il messaggio Che voglio dare I preside Cerchiamo di portare I ragazzi a scuola Cerchiamo di invogliarli Perché tanti giovani Tanti giovani Non sanno Di essere Dentro di loro Degli attori E questo è un po' Quello che state facendo Voi fate questi spettacoli Le matinée Le matinée Ma non sono Non è una questione commerciale Perché a volte Diciamo No Perché il mio scopo È quello che Il ragazzo L'allievo L'insegnante Il preside Chi sia Esce Dalle sale E quando esce Dalle sale Dice Ma tu lo sai Che mi sono proprio divertito Effettivamente È vero Il messaggio Che Enzo Catapano Ci ha dato Cioè io questo Voglio dare Cioè Mora io sto prendendo fuori Sto giubbotto Sarai pure tu Perché secondo me Sarai imbottito E quindi abbiamo Altri tre minuti Tre minuti Noi abbiamo Che possiamo fare Che possiamo Vogliamo Tu hai parlato delle sale Il teatro Ma anche il cinema Il cinema Il cinema Io sono stato Ho fatto Una figurazione speciale Nel film 13 a tavola Di Enrico Oldoini Del regista Di Enrico Oldoini È deboli La verità Io facevo questo Giovane Militare Giustamente Io mi trovo sempre A fare Questi ruoli Un po' Pubblici Di forze dell'ordine Però era un militare Vero e proprio Abbientato negli anni Sessanta Insieme Al grande Alessandro Benvenuti C'era un cast Angela Finocchiaro Quindi andate a vederlo È un grande film E niente E ho fatto questo Mi sono veramente appassionato Perché poi Ho dato E io ho fatto quella cosa Cioè la prima Alla prima Si alza in piedi Il regista Io mi pensavo Che questo Diceva bene E disse Enzo Catafano C'era così Sì Il cane Abbiamo finito Di fare Invece no Mi fece complimenti Si congratulò Con me Dicendo Nel teatro Nel teatro Prendete una poltrona Una poltrona È importante Tu ce l'hai la poltrona a casa E allora Vieni al teatro Tu mostri così La poltroncina così No invece La poltroncina del teatro È comoda Tu respiri Vedi quelle persone Che si muovono Su quelle tavole Del palcocene Vabbè È emozionante È talmente bello Che tu Guarda Se ci fai caso Chiudi gli occhi Un attimo Stai là sopra È come lo spettacolo Mi faccio ancora da su Un appuntamento importante Lo vogliamo dare Ai nostri amici Il mediano A gennaio Ci sarà invece Uno spettacolo teatrale Il nuovo spettacolo teatrale Al San Carluccio Dal 16 gennaio Al 18 di gennaio Quindi tre giornate bellissime Con Laura Freddi Con la nostra Quindi un personaggio Illustre nazionale Con la Laura Freddi E quindi tu sei invitato Assolutamente Non devi venire Siamo già all'acqua No 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 Non devi pagare Tu non devi pagare Perché giustamente Sai perché non devi pagare Perché tu Come a me Sei un abbonato Quindi Ha sempre un posto in prima fine Non lo so se ci sarà posto in prima fine Però Troveremo un posto Per farti accomodarsi Bene anche la seconda Scherzo scherzo Invece Devi venire Devi venire Perché veramente Mi fa assai piacere Quindi ho dato questo Grazie Hai fatto benissimo Grazie per il mio subito Prendete nota Intanto Mi faccio da solo Intanto Mi faccio ancora da solo Non confondiamo i nostri telespettatori Mi faccio ancora da solo E non solo Senti Al termine di questa intervista Sì Noi abbiamo Andiamo a mangiare No Possiamo anche andare a mangiare dopo Se non hai mangiato Però abbiamo un'abitudine Sì Di farci fare Una dedica Sì Con un autografo Dai nostri ospiti Che bello Qui c'è Enzo Catavano 5.11.2014 Ci lasci una dedica E la Ce la racconti Allora Vincenzo Catavano Però facciamo Enzo Facciamo Facciamolo così Enzo Catavano Allora Almediano Giusto? Sì Almediano Non te la posso fare a te Mi dai il tuo numero di telefono Ti chiamo stanotte E facciamo Almediano Con Immenso Mensa Soddisfazione Ho detto un po' in spagnolo Soddisfazione Soddisfazione E Grande Stima Ok Grande stima Enzo Catavano Guardate Vedete Non mi prende di profilo Perché se no Mi rubi Il profilo di Facebook Dimmi Allora Ci siamo divertiti Ci siamo divertiti Speriamo che Si siano Almediano Immenso Soddisfazione E grande stima Cioè Ho pensato questo Ho detto questo E' il tuo pensiero E' quello che Vuoi aggiungere qualcosa A questa frase Va benissimo Va benissimo Va benissimo Ottima Quindi con questa Simpatica Con grande soddisfazione Chiudiamo questa Bella intervista Ci siamo divertiti Un'intervista Un po' particolare No Scherzi a parte Ci siamo divertiti E' venuto fuori Un po' Enzo Catavano Chi è Ma no Io sono stato bene Ti dirò la verità Sono stato talmente rilassato Talmente rilassato Tranne il mio cappotto Che sto prendendo fuori Però Veramente Si sta Bene Anzi Ti dirò la verità Anzi Voi Venite qui In redazione Qui Negli studi Del mediano Perché veramente Trovate Come si dice Eh Voi trovate Voi lo trovate qua Lo trovate qua E lui non si muove da qua Quindi tranquillamente E tutti Qua stiamo Vi aspettiamo Sono gentili Sono gentili Sono gentili Non è vero Venite il mediano Comunque Questa cosa la facciamo Grazie Enzo Catavano E noi la facciamo Il mediano Il mediano Grazie Dimmi qualcosa Grazie Enzo Catavano Finisce qui questa intervista Poi Magari ci vediamo Se Questo sondaggio Se parte questo sondaggio Ogni settimana Speriamo bene No ma non perché devo venire Proprio il sondaggio Perché la gente si deve divertire Oggi Guarda Non c'è niente da fare Stanno troppo tristi Invece facendo queste cose qui Noi giochiamo con i nostri amici Telespettatori Di Facebook Di web In ogni forma Di etere Giusto? Si c'è così Tu me l'hai detto tu Tu me l'hai detto tu Perché lui Dice prima queste cose È preparato Roberto Sica Ricordate questa cosa Roberto Sica Ricordate questa cosa Ricordate invece di Enzo Catavano E del teatro Grazie Enzo Salutiamo Con questo finisce questa bella Intervista esclusiva del Mediano Sport Roberto Sica E Luigi Ervoglio Dall'altra parte Vi danno appuntamento Alla prossima intervista Del Mediano Sport Saluti a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti